Stiamo giudicando il lavoro di Prandelli, Ciccio, te mi devi dire, se sei contento o no di quello che ha fatto Prandelli... No, lui non è contento. Ma io mica ho detto che non sono contento. Questo voglio capire io. Anche se ho la vittoria di venerdì, ci ha rimesso un sesto perché con Prandelli 15 partite, 14 punti, non eravamo tanto allegri. Poi la vittoria con la terza ci ha riaperto un mondo perché poi ha perso il Cagliari. Oggi abbiamo 10 punti di vantaggio sulla terza ultima. Ma quindi siamo salvi. No, no, ancora no. Siamo salvi, te lo dico io. L'altra settimana qui, la domenica, io ho detto con lo Spezia si vince. Perché ero convinto che si potesse vincere per mille motivi. Ragazzi, quando uno si vince... Allora, ti dico un'altra cosa. Io dico se... Guarda, se fosse... Con una squadra in Serie A dovresti essere capace di far giocare la squadra con più moduli. Sai perché? Perché se nell'arco di una partita ti buttano fuori uno a te o buttano fuori un avversario... È successo, Ciccio. Devi cambiare strategia subito. Ha giocato a Torino, ha giocato a quattro. Io una volta ho visto a Torino... Allora in un derby... In un derby... Allora in un derby...